Il telegiornale del Nord-Est ben ritrovati con l'informazione di Telepordenone in diretta dai nostri studi. In primo piano questa sera un frontale tra auto e furgone ad una verde di Caorle ha a perdere la vita un uomo di 42 anni. Individuati gli aggressori del ragazzo violentemente picchiato giovedì mattina mentre stava andando a scuola in bicicletta. Si tratta di due minori di 15 e 17 anni che sono stati denunciati in stato di libertà alla procura del Tribunale minorile di Trieste per lesioni aggravate in concorso. Oggi 9 ottobre ricorre il 58esimo anniversario della tragedia del Vaillant dove persero la vita 1917 persone. Vi proponiamo un ricordo dei brutti fatti che accaddero quella notte con i commenti anche dei presidenti delle regioni coinvolte ovvero Veneto e Friuli Venezia Giulia. C'è stata annunciata la nuova giunta a Ciriani tramite un post sulla pagina Facebook del sindaco. Approfondiremo quindi chi sono i nuovi assessori al comune di Pordenone e quali sono le loro deleghe. Tra l'incari sulle bollette e aumento del costo della vita abbiamo chiesto oggi ai pordenonesi come fanno a risparmiare per arrivare a fine mese. E infine parleremo di cultura con le giornate fai d'autunno perché oggi è stato presentato il programma che vedrà protagonisti i comuni di Cordovado e Sesto a Reghena con visite guidate e molto di più. Come sempre attendiamo ospiti in studio, un telegiornale molto ricco questa sera ma prima lascio volentieri la linea ai colleghi per le loro anticipazioni. Un cordiale saluto anche dalla nostra redazione di Udine, Gorizia e Trieste, tante anche oggi le notizie che andremo ad approfondire nel corso di questa nuova edizione del nostro telegiornale. Andremo a vedere la protesta che ha coinvolto circa 600 studenti, oltre ad alcuni insegnanti e altri membri del sociale. Coinvolti appunto in questa protesta riguardo alle scarse condizioni edili della succursale del liceo Petrarca, che è stata vittima nei giorni scorsi di alcuni cedimenti strutturali e ancora andremo a vedere poco prima di questa mattina in via Costalunga quando si è verificato un grave incidente stradale, rimasta gravemente ferita una giovane. Ancora andremo ad approfondire la questione legata all'attacco nei confronti della pagina Facebook di Asugi, vittima di circa 500 commenti da parte di profili fake che andavano a scrivere notizie false sotto i post dell'azienda sanitaria, commenti falsi riguardanti la campagna vaccinale. Tante le notizie che arriveranno anche da Udine, Gorizia e Trieste. Prima di proseguire però linea al collega del Veneto per i saluti. Grazie, un saluto anche dalla nostra redazione del Veneto. Tragedia nel pomeriggio a Dunaverde, località di Caorle, per un incidente mortale con tre feriti. E poi il tema delle rapine in casa che torna in auge nella marca trevigiana, ha fermato un 33enne trovato in possesso di quasi 4 mila euro di gioielli e valori dopo un inseguimento con i carabinieri. Economia, il monito della CGA di Mestri, in un anno e mezzo perse 302 mila partite. Iva serve un tavolo permanente a livello nazionale e locale. Ne parleremo con l'onorevole di Italia Viva Sara Moretto. Sorride la parte centrale della stagione sulla costa veneziana. Arrivano i numeri. E poi nella nostra parte del Veneto non perdetevi tutti gli approfondimenti legati al Veneto orientale e alla notizia politica del giorno sul fronte portogruarese, ossia il passaggio del capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Mario Pizzolitto tra le file di Forza Porto Gruare. Cercheremo di capire gli sviluppi. Attendiamo come sempre ospiti in studio. Lina che può tornare a Pordenone. Apriamo dunque il telegiornale con lo schianto tra auto e furgone nel pomeriggio a Duna Verde di Caorle. Il bilancio è mortale. Il servizio. Tragedia della strada nel pomeriggio a Caorle. A perdere la vita è un uomo che viaggiava a bordo di un Audi grigia scontratasi frontalmente a Duna Verde con un furgone bianco al cui interno vi erano tre stranieri. L'incidente è accaduto in viale Selva di Rosata attorno alle 15.30. Il conducente dell'auto che ha perso la vita a 42 anni non è riuscito a sopravvivere a seguito delle gravi ferite riportate nel sinistro. A estrarre l'uomo dalle lamiere contorte dell'auto sono stati i pompieri di Caorle e Sandona di Piave sul posto per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati. Le altre tre persone rimaste ferite che viaggiavano nel furgone sono state soccorse dal 118 e trasferite in ospedale a Porto Gruaro. Per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti i carabinieri che hanno provveduto al contempo a deviare il traffico. Un'escursionista vicentina di 54 anni ha perso la vita precipitando per 400 metri dal sasso di Toanella a 2430 metri di quota nel Bellunese. La donna secondo una prima ricostruzione stava scendendo lungo la normale con il compagno e un'altra coppia quando poco sotto la cima ha perso l'equilibrio cadendo nel vuoto. Scattato l'allarme attorno alle 14 i soccorsi si sono precipitati sul posto ma per la 54enne non c'è stato nulla da fare. Incidente all'alba a Trieste grave una giovane di 21 anni caduta dallo scooter. Alle prime ore del mattino più precisamente poco prima delle ore 4 a Trieste in via Costa Lunga si è verificato un grave incidente che ha coinvolto uno scooter sul quale viaggiavano un ragazzo ed una ragazza. Le cause sono ora al vaglio della polizia stradale del capoluogo Giuliano intervenuta sul posto per accertamenti, rilievi e gestione della viabilità. I due giovani dopo aver perso il controllo del mezzo sono rovinati sull'asfalto. Immediato l'allarme al numero unico 112 lanciato da parte degli automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena vedendo il mezzo a terra e poco lontani i due giovani. Sul posto la centrale Sores di Palmanova ha inviato l'equipaggio di un'ambulanza che ha trasportato i due giovani all'ospedale. La giovane sembrerebbe versare in gravi condizioni. Brutalmente picchiato dopo aver urtato involontariamente una ragazza con la bicicletta, la polizia ha indagato denunciati in stato di libertà due minorenni pordenonesi. La questura di Pordenone ha eseguito delle indagini in seguito all'episodio di violenza avvenuto giovedì mattina sul sovrappasso della statale 13. Un giovane affetto da autismo è stato preso a calci e pugni in faccia dopo che con la bicicletta aveva urtato una ragazza che a piedi avrebbe invaso la corsia ciclabile dove lui stava transitando. Il ragazzo è stato poi aiutato da altri due studenti ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Gli aggressori individuati dalla polizia sono due. Si tratta di due ragazzi di 15 e di 17 anni di Pordenone i quali sono stati denunciati in stato di libertà alla procura del Tribunale per minori di Trieste per lesioni aggravate in concorso. Entra in casa di un'anziana e ruba preziosi per 4.000 euro ma viene arrestato poco dopo dai carabinieri accaduto nella marca trevigiana al servizio di Alessio Conforti. Un uomo di 33 anni del Togo è stato arrestato ieri sera a Castelfranco Veneto con l'accusa di rapina. L'uomo, residente a San Martino di Lupari nel Padovano, è stato bloccato dai militari dell'arma dopo la segnalazione di un colpo avvenuto all'ora di cena a casa di un'anziana di 86 anni. A lanciare l'allarme al 112 è stato il nipote della donna, rientrato dal lavoro e trovattosi faccia a faccia con il ladro, salito al primo piano dell'immobile svuotando i preziosi dalla camera dell'86enne. Ne è nata una colluttazione al termine della quale lo straniero è riuscito a fuggire calandosi dalla finestra. La tempestiva segnalazione e la descrizione del soggetto hanno permesso ai carabinieri di sorprendere il 33enne in via Cesare Battisti. Aveva una ventina di anelli, due collane, ciondoli e bigiotteria varia per un valore di circa 4.000 euro. Non si esclude che parte della refurtiva possa essere riconducibile ad altri colpi messi in atto nella zona. Lo straniero, già noto alla giustizia su disposizione del pubblico ministero di turno della procura di Treviso, è stato portato in carcere a Santa Bona. Incidente stradale a Godia di Udine intorno alle 13.30 di oggi, precisamente in via Ciarande, è stato trovato un motociclista a terra. La dinamica è ancora sconosciuta, è intubato sul posto, è stato trovato con un trauma toracico ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Il codice era un codice rosso. Tragedia del Vaion, 58 anni fa, la tragedia annunciata che spense 1917 vite, distrusse i territori di Erto e Casso e Longarone. Vi proponiamo il ricordo nel prossimo servizio. Erano le 22.39 del 9 ottobre 1963, 58 anni fa. Da quel momento, nei territori tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, niente sarebbe stato mai più come prima. Un'enorme frana scivolò dalle pendici settentrionali del Monte Toc ad una velocità di 108 km orari e crollò sul bacino d'acqua sottostante, creato dalla diga del Vaiont. I 270 milioni di metri cubi di roccia provocarono un'onda che portò con sé morte ed esolazione. L'acqua risalì il versante opposto della montagna, distruggendo i paesi di Erto e Casso e superò il confine della diga riversandosi nella Valle del Piave, travolgendo quasi interamente il comune di Longarone e i territori limitrofi. 1917 furono le vite spezzate dalla tragedia, di cui 470 bambini. Numeri approssimativi perché molte salme non furono mai recuperate. Quest'anno, per la prima volta, il fatto è stato commemorato anche dal Parlamento europeo, con il suo presidente David Sassoli, il quale, per motivi di salute, non ha potuto partecipare di persona alle celebrazioni ufficiali che si sono tenute il 1 ottobre. Nel suo messaggio, letto dall'europarlamentare della Lega Marco Dreosto, si legge Non possiamo dimenticare un evento che ha provocato una ferita profonda nella storia e nel tessuto sociale di questo territorio e dell'intero paese. Ma non possiamo limitarci al solo ricordo, perché il Vaillant è un simbolo degli errori e delle tragedie che l'Italia avrebbe potuto evitare. Il doveroso ricordo non è solo legato alla commemorazione, ha ribadito oggi il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e alle giovani generazioni che ora istituzioni e società civile devono rivolgersi perché, dalla storia del Vaillant, fatta anche di errori, sottovalutazioni, scelte e comportamenti assai discutibili, tragano una lezione per il futuro. La tragedia del Vaillant è una tragedia determinata dalle mali dell'uomo, ha continuato il presidente Zaia. Rimane un monito affinché l'indispensabile sfruttamento della natura sia sempre equilibrato in condizioni di sostenibilità per il territorio, di sicurezza per la comunità e nel rispetto del pianeta. Il 9 ottobre è una data carica di significato per la nostra comunità regionale, ha scritto sui suoi profili social il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Un commosso ricordo e una preghiera per le vittime della tragedia del Vaillant. È qui con noi Davide Gaspari dell'Accademia Nautica dell'Adriatico, grazie per essere qui con noi questa sera. Grazie a voi, buonasera. Partirei proprio dall'Accademia Nautica, che cos'è esattamente? L'Accademia Nautica è una fondazione ITS, quindi come fondazione ITS siamo riconosciuti dal Ministero e formiamo ragazze e ragazzi che sono appena usciti dal diploma o che comunque hanno una formazione superiore e li formiamo in diversi ambiti. Facciamo una formazione agli allievi della Marina Mercantile, una formazione per tecnici della logistica, facciamo i macchinisti ferroviari, abbiamo un corso di macchinisti ferroviari, un corso di cyber security e un corso per progettisti navali. Partendo proprio dalla logistica, che cos'è esattamente la logistica? Che cosa serve? La logistica serve a movimentare le merci praticamente ormai in tutto il mondo e quindi noi all'interno della regione Fruvivenza Giulia abbiamo due percorsi, uno a Trieste e uno a Pordenone presso Interporto, in cui formiamo i ragazzi che poi vanno a lavorare nelle aziende di interscambio merci, di aziende che si interfacciano con le dogane, tutte le aziende che lavorano nel mondo del trasporto, marittimo, portuale, ferroviario. Certo, ovviamente studiare logistica e lavorare in logistica è un pochino diverso, studiare su come funziona lo studio della logistica? Praticamente i nostri percorsi sono praticamente progettati assieme a molte aziende del territorio che ci aiutano sia a progettare il percorso, sia mandano alcuni dei loro dipendenti come docenti, quindi i ragazzi vengono formati da dipendenti delle aziende con cui collaboriamo e da professionisti del settore che gli aiutano a prepararsi per poi essere disponibili per le aziende quando dovessero assumerli, insomma noi all'interno dei percorsi sono previsti degli stage all'interno delle aziende e poi le aziende alla fine del percorso, tante volte li vorrebbero assumere anche prima che finiscono il percorso, di solito insomma vengono vengono assunti poi alla fine del percorso. Quindi un percorso proprio specializzato, studiato ad hoc? Assolutamente studiato ad hoc, è un percorso di formazione tecnica specialistica che quindi è studiato ad hoc per le aziende dei settori che ci richiedono alcune figure, quindi ogni anno poi cambiamo anche leggermente il progetto a seconda di quello che le aziende chiedono e avranno come disponibilità negli anni futuri fondamentalmente. E l'Accademia Nautica è nuova o insomma operate già da tempo? Noi operiamo dal 2015, all'inizio facevamo solo il corso di allievi ufficiali per la Marina Mercantile a Trieste e dopo man mano negli anni abbiamo iniziato a fare altri corsi sempre nel settore della mobilità sostenibile dove siamo attivi diciamo e quindi abbiamo iniziato a fare, il secondo percorso che abbiamo iniziato era tecnica logistica a Trieste e poi due anni fa abbiamo iniziato tecnica logistica anche qua a Pordenone presso Interporto, nella nostra sede di Interporto. E diciamo di solito gli studenti che trovate appunto che tipo di persone sono, che ambizioni hanno? Allora normalmente sono ragazzi e ragazze appena usciti dal diploma di istituti tecnici ma non solo, anche dai licei scientifici o alcuni anche dall'università. Dopo le largo e tre neali per avere una formazione meno teorica e più specialistica e più in pratica vengono, si iscrivono da noi, fanno altri due anni e poi si mettono nel mercato del lavoro. Va bene, allora grazie a Davide Gaspari per essere stato in nostra compagnia, insomma torneremo sicuramente sugli argomenti che mi parli molto interessanti. Grazie a voi. Abbiamo la nuova giunta Ciriani che è stata annunciata dal sindaco stesso attraverso un post sulla sua pagina Facebook. Emanuele Loperfido sarà effettivamente il vice sindaco mantenendo le sue deloghe alla sicurezza, alla protezione civile, al commercio e aggiungendo la delega al bilancio. Andrea Cabibbo sarà assessore ai lavori pubblici, al patrimonio e al demanio. Samantha Miot sarà assessore alle attività produttive, al turismo e alla progettazione su fondi europei. Guglielmo Minacucci mantiene il suo assessorato alle pari opportunità, aggiungendo invece quello alle politiche sociali. Cristina Amirante mantiene il suo assessorato alla viabilità, all'urbanistica e alle grandi opere. Walter De Bortoli mantiene l'assessorato allo sport e aggiunge l'assessorato al tempo libero. Alberto Parigi, che è stato ospite qualche giorno fa qui nei nostri studi, sarà l'assessorato alla cultura, ai grandi eventi e all'istruzione. Infine Monica Cairoli sarà assessore all'ambiente e al verde. Il sindaco si è tenuto la delega per il coordinamento dei fondi del Piano Nazionale per la Ripartenza e Resilienza, anche detto PNRR. ciclista investito da un'auto a Santa Lucia di Piave, accaduto intorno alle 13 di oggi a bocca di strada all'incrocio tra via Conti Agosti e via Ungaresca. Un 66enne per causa al vaglio della polizia locale è stato centrato da una Opel Corsa nera finendo sull'asfalto. Soccorso dal 118 è stato trasportato all'ospedale di Treviso in gravi condizioni. Protesta in piazza a Trieste. 600 studenti del liceo Petrarca, accompagnati anche da alcuni insegnanti, lamentano le precarie condizioni nelle quali si trova la succorsale del liceo di Largo Sonnino. Ieri mattina circa 600 studenti del liceo Petrarca di Trieste sono scesi in piazza per protestare contro le condizioni precarie in cui si trova l'edificio che ospita la succursale in Largo Sonnino, dove nelle scorse ore sono caduti dei calcinacci dovuti al deterioramento della struttura. I vigili del fuoco intervenuti per la messa in sicurezza del luogo hanno disposto alla chiusura di tre aule e una scala interna in attesa delle necessarie verifiche strutturali. I ragazzi per superire a tale situazione sono quindi stati obbligati all'ormai nota DAD, la didattica a distanza. Ieri mattina gli studenti, accompagnati anche da alcuni insegnanti, si sono ritrovati prima in Largo Sonnino con striscioni e poi si sono spostati in piazza Vittorio Veneto, dove è a sede lente di decentramento regionale. Per la riqualificazione dell'edificio era già stato studiato un progetto che tuttavia risulta bloccato dal 2017 a causa di un contenzioso. Recentemente gli studenti, così come genitori e docenti, avevano denunciato in una lettera la precarietà dell'edificio ritenuto inadeguato ad accogliere gli studenti e le elezioni. Presente alla manifestazione di protesta anche al candidato sindaco di centro-sinistra, Francesco Russo, i consiglieri comunali neoeletti Riccardo Laterza di Adesso Trieste e Ugo Rossi del Movimento 3V. Anche il Movimento Giovanile legato a Casa Pound, blocco studentesco, ha preso parte alla protesta. Siamo adesso in compagnia di Tiziano Centis, consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia per i cittadini. Grazie per essere qui con noi questa sera. Come abbiamo chiesto ieri alla consigliera Mara Piccin, chiedo anche a lei un'opinione sulle elezioni comunali che si sono tenute in regione. Che cosa ha visto? Cosa ne pensa dei risultati? I risultati che hanno lasciato un po' la mare in bocca per quanto riguarda le forze che rappresentano il campo, l'area del centro-sinistra. La partita non era facile, del resto le principali città come Pordenone, come Cordenons, come Trieste, come la Tisana, ma in modo particolare Cordenons, Pordenone e Trieste con sindaci al secondo mandato, quindi al rinnovo. Ovviamente l'impresa era difficile, perché è chiaro che un sindaco quando si presenta per il rinnovo e per il secondo mandato, ovviamente porta con sé il buono, il lavoro fatto bene, il consenso, l'attenzione, la presenza e la disponibilità dei cittadini nei confronti dell'amministrazione uscente che nella maggior parte dei casi, se non succedono cataclismi, viene sempre premiata. Quindi l'impresa era difficile, nonostante questo alcune forze presenti all'interno del campo del centro-sinistra hanno tenuto tutto sommato bene, in modo particolare le civiche che sono importanti colonne all'interno di questi raggruppamenti ed è chiaro che questo ovviamente fa sì che dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare in prospettiva del 2023 quando scadrà appunto il Consiglio regionale. Per quanto riguarda invece San Vito al tagliamento, da sempre è considerata la roccaforte della sinistra, anche il successo di Valerio Delle Fratte che è arrivato al ballottaggio con Alberto Bernava, anziché Susi Centis, esponente del Partito Democratico, fa un po' riflettere anche su un po' questa, appunto la riflessione che stava facendo anche lei, su un po' il centro-destra molto coeso, molto forte. Sì, diciamo che il Partito Democratico a San Vito ha perso oltre 400 voti, quindi un 5% rispetto al 2016, questo molto probabilmente è dovuto al fatto che sono partiti tardi nella campagna elettorale con delle scelte sbagliate, con dei modi, con dei metodi che non sono stati accolti dai cittadini di San Vito. Alberto Bernava si è presentato bene, da tempo era sceso in campagna elettorale, ricordo che era stata presentata la sua candidatura ancora all'estate dell'anno scorso, quindi insomma un lungo percorso di avvicinamento a questa importante tappa, con progetti, con programmi, con presenza nel territorio e con la partecipazione nel dialogo con i cittadini ha portato a casa un importante risultato, la sua coalizione civica che è un'area riformista, progressista e si respira per quanto ci riguarda in quella coalizione civica l'area del centro-sinistra. Si pone in questo balottaggio con dei punti maggiori a favore rispetto al secondo competitor e ovviamente confidiamo a che tutta quell'area che è rimasta esclusa con il voto della candidata Susi Centis ci dia il consenso e ci consente di governare la nostra cittadina. Per quanto riguarda invece la situazione ospedaliera a San Vito, la regione aveva annunciato inizialmente una chiusura di un reparto importante come quello di pediatria, poi ha rettificato dicendo che c'è stato un refuso nella comunicazione, che cosa ne pensa lei di questo refuso? Ma guardi Tania, del refuso non ci crede nessuno, una frenata che stride veramente per come è stata compiuta in modo veloce e repentino all'ultimo momento. Un refuso a casa nostra è una parola storpiata. Non è un indirizzo ben preciso all'interno di ben tre pagine di delibera di indirizzi fatti da questa giunta e non solo per l'ospedale San Vito Spilimbergo ma anche per la pediatria di San Daniele Tolmezzo e la Tisana Palmanova. Quindi un indirizzo ben preciso che era stato dato ed è stato pubblicato anche dal Burr. Quindi ulteriore passo pericoloso e passo falso fatto da questa giunta. Ricordiamo che questa questione della pediatria del punto nascita San Vito viene periodicamente fuori. Già nella primavera del 2019 i cittadini per San Vito hanno raccolto oltre 1500 firme a difesa del punto nascita e ogni tanto dal cassetto rispunta questo piano secreto di superamento e chiusura di questo importante servizio negli ospedali Spoc di San Vito e di Spilimbergo ma di San Vito in modo particolare. Ovviamente l'attenzione è alta e ripresenteremo forme e atti di attenzione nei confronti della regione per quanto riguarda la difesa di un importante servizio come la pediatria e il punto nascita di San Vito. L'alternativa sarebbe nascere a Pordenone quindi se dovesse effettivamente andare in porto questa chiusura? L'alternativa è nascere a San Vito con la pediatria che funzioni a San Vito. Grazie allora Tiziano Centis per essere stato in nostra compagnia e ci torni pure a trovare la prossima settimana. Grazie Tania, grazie. Stradinario incidente stradale nella notte a Villotta di Chions. I vigili del fuoco di San Vito al tagliamento sono intervenuti intorno alle 3.20 nel parcheggio del supermercato Visotto dove un'auto aveva appena perso il controllo e si era schiantata contro altre 4 vetture parcheggiate radicando nel frattempo anche un idrante antincendio. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le auto e hanno provveduto a mettere in sicurezza tutto lo scenario. Sul posto presente anche il personale sanitario e i carabinieri di Azzano X. Dichiarazione ISEE in Friuli Venezia Giulia una famiglia su 5 in disagio economico. Il 21,7% non raggiunge i 6.000 euro. A Trieste si sale al 27,3%. Lo rivela un'indagine di Ires FVG su dati IMS rielaborati. Una famiglia su 5 in Friuli Venezia Giulia si trova in difficoltà economica. Il 21,7% dei nuglei familiari presentano un ISEE inferiore ai 6.000 euro. Lo ha rivelato il ricercatore dell'Ires FVG Alessandro Russo che ha rielaborato dati IMS. La certificazione ISEE o indicatore della situazione economica equivalente individua le condizioni economiche effettive delle famiglie, prendendo in considerazione il reddito, il patrimonio immobiliare e mobiliare e le varie caratteristiche del nucleo familiare. La certificazione è uno dei principali documenti necessari per accedere ad aiuti e rimborsi economici da parte di enti pubblici, tra cui il reddito di cittadinanza. Rispetto al 2019 si è registrato un aumento a livello nazionale di famiglie con ISEE. Da 7,6 milioni si è passati a 8,6 milioni. Il Friuli Venezia Giulia, però, è l'unica regione d'Italia in cui sono diminuiti i nuclei con ISEE tra il 2019 e il 2020. Ciò nonostante, oltre un quinto delle famiglie della regione è in difficoltà economica. Il 21,7% infatti ha un ISEE inferiore ai 6 mila euro. La percentuale poi sale al 27,3% nella provincia di Trieste, mentre in quella di Pordenone si rileva il valore più basso, ovvero il 17,6%. Ad avere un ISEE superiore ai 30 mila euro è solo il 13,3%. La crisi legata alla pandemia da Covid-19 non ha aiutato. Infatti, nel 2020, a livello regionale, sono raddoppiati, da 1.132 a 2.457, i nuclei familiari con ISEE corrente, ovvero il documento che permette di aggiornare l'indicatore autonomamente senza presentare dichiarazioni sostitutive nel caso di un significativo peggioramento della situazione lavorativa o economica. Il dato è invece triplicato a livello nazionale, da 54.600 a 189.259. Ma non tutto è negativo. L'indagine Ires ha infatti rivelato anche che in regione la quota di famiglie che risiedono in abitazioni di proprietà è la più elevata a livello nazionale, ed è pari al 43,1% del totale dei nuclei familiari con ISEE. Tale incidenza tende evidentemente a crescere con l'aumentare dell'ISEE stesso. È inferiore al 10% per i nuclei con un indicatore minore di 6.000 euro e supera il 60% tra quelli con più di 15.000 euro. Costo della vita sempre più alto e rincari sulle bollette di luce e gas. Come si arriva a fine mese e come si può risparmiare qualcosa? Lo abbiamo chiesto ad alcuni passanti che stamattina popolavano il centro di Pordenone. Quanto è difficile arrivare a fine mese? Penso parecchio perché è tutto aumentato purtroppo e gli stipendi sono sempre quelli, trafitto, luce, adesso abbiamo saputo che è aumentato luce e anche gas. Penso che un danno per le famiglie sarà notevole perché gli stipendi sono sempre quelli alla fine, non è che aumentano, ti fanno lavorare come cani e alla fine dopo lo stipendio è sempre quello. Un po' di fatichetta. Qualche suggerimento per risparmiare? Ce ne sarebbero tanti di suggerimenti però se manca la materia prima è quello lì. Perché poi aumenta tutto però gli stipendi, le pensioni? Sempre, io sono in pensione da dieci anni, non mi è cresciuta neanche 5 lire, 5 euro. Diciamo che a fine mese si arriva faticando un pochettino, soprattutto le spese per i bambini sono abbastanza alte, io per la scuola quest'anno ho speso parecchio per il materiale scolastico, sì. Quindi anche per una giovane famiglia come la sua non è facile? No, non è facile, non ci si lamenta, comunque non ci manca niente a noi personalmente, però mi metto nei panni di chi magari ha meno possibilità, ripeto già le spese scolastiche, i materiali, le cose, per me sono state impegnative, quindi immagino che per le famiglie che magari non hanno le stesse possibilità mie sia faticoso. Un po' complicata tesoro, perché non riesco a dare una risposta, perché ci sono tante tipologie di persone che purtroppo la realtà è questa adesso. Un giovane come arriva a fine mese? Diciamo che si cerca di fare degli acquisti o delle spese un po' più mirate, con sacrifici, si cerca insomma di non rinunciare a tutte le cose, ma darsi un po' di priorità in modo tale di poter vivere serenamente e arrivare a fine mese. Ci sono trucchi per arrivare a fine mese? Ma i trucchi possono essere quelli di fare un po' di attenzione a tutte le promozioni che ci sono in giro, ovviamente per chi ha tempo di farlo, perché ci vuole anche tempo e ci vuole impegno, però io sono del parere che, ripeto, facendo un po' di attenzione alle offerte che ci sono in vari supermercati si può effettivamente risparmiare qualcosa. Conforme le famiglie che sono in giro, chi ha un stipendio, chi è in casa di integrazione, noi stiamo bene adesso, va bene così come siamo e dopo il resto sarà quel che sarà. Andiamo adesso a Udine con l'ospite in compagnia del collega Edoardo Anese. A voi la linea. È in nostra compagnia Mauro Bordin, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. Ben ritrovato, grazie per essere con noi. Grazie a voi, buonasera. Vediamo un tema di assoluta attualità, le elezioni a Trieste, si parla, anzi si parla, c'è il ballottaggio tra Di Piazza e Russo, come lo commenta? Ma abbiamo sfiorato l'impresa al primo turno, in cui i risultati hanno dato sicuramente ragione a Di Piazza, sfiorando proprio la vittoria secca, che sinceramente sarebbe stata una novità, quindi coloro che magari evidenziano il fatto che noi ci aspettavamo la vittoria al primo turno e invece non è arrivata, forse dovrebbero valutare che in realtà a Trieste questo non è praticamente mai successo. Quindi essere arrivati comunque ad un risultato del genere con un ampio margine di vantaggio significa che l'amministrazione di Piazza è stata apprezzata dalla gente e ci sono tutte le condizioni naturalmente per confermarsi al ballottaggio. Sarebbe naturalmente la ciliegina sulla torta, una ciliegina sicuramente importante, ma che andrebbe a corollario di risultati elettorali che nella nostra regione hanno fatto registrare importanti successi per il centro-destra, che ha conquistato comuni come La Tisana, come Aiello, come Grado, giusto per fare qualche esempio, consolidando comunque altri risultati, dimostrando comunque di essere assolutamente in salute. Ed è evidente che comunque dopo Porto di Nuovo e Trieste sarebbe assolutamente fondamentale, quindi siamo fiduciosi che i cittadini possano confermare al ballottaggio il voto del primo turno. Cosa che secondo lei è mancato, se dovesse essere mancato qualcosa, che ha portato al ballottaggio? Ma come dicevo, era difficile vincere il primo turno, perché comunque è una città importante, ma che storicamente manifesta una forza sia nel centro-destra che nel centro-sinistra, quindi il ballottaggio è quasi dato per scontato a Trieste. È chiaro che in questo caso è mancato veramente poco, perché parliamo di una percentuale veramente bassissima. Chiaro, un po' di fortuna, che ci vuole naturalmente anche quella talvolta, e forse ecco, mi viene un po' di estensione in meno. Quello probabilmente è inciso negativamente, perché l'estensione è stato uno dei dati che vengano segnalati in questo turno elettorale, poca gente ha da votare. Forse con un 3-4% di persone in più al voto avremo raggiunto anche la vittoria al primo turno. Ecco, se dovesse essere riconfermato di piazza, quali saranno i primi interventi per i quali necessita Trieste? Credo che il sindaco sicuramente andrà avanti rispetto alla progettualità che è già iniziato, quindi andrà a concretizzare il lavoro fatto in questi anni, perché poi ricordiamo che, vero, cinque anni sono tanti, però molto spesso nella pubblica amministrazione non sono determinanti. Infatti, tra l'altro, ancora adesso di piazza, oltre a far evidenziare quello che è il lavoro che è stato fatto, ha in qualche modo promosso anche la concretizzazione dei cantieri che stanno in qualche modo partendo adesso a livello di edifici scolastici, di piazze, di parcheggi. Ci sarà naturalmente tutta la portualità che andrà in qualche modo sviluppata, quindi quello sarà sicuramente il centro nevalgico dell'azione che la città di Trieste insieme alla regione dovrà portare avanti in questi anni, il recupero di Portovecchio. Ci sono tra l'altro tante opere che sono appunto state finanziate dalla regione e che dovranno in qualche modo vedere la luce nei prossimi cinque anni. Quindi credo che si parta da un bagaglio di concretezza importante su cui dovranno poi naturalmente essere innestate magari anche idee nuove. Però è evidente che credo che lo sviluppo del porto, quindi l'arrivo di nuovi investimenti, la riqualificazione delle aree, la riqualificazione di Portovecchio, il recupero magari anche di determinate aree periferiche, la creazione di servizi a favore dei cittadini a livello scolastico, di istituzione sportive in modo tale che tutta la città in qualche modo si senta coinvolta ulteriormente. Saranno questi immagino i punti su cui lavorerà maggiormente l'amministrazione di piazza. Quello che si deve dire è che comunque a Trieste è stato fatto molto, è una città assolutamente viva, una città forte, sia dal punto di vista economico sia comunque dal punto di vista della vita, insomma di servizi al cittadino. Quindi si è lavorato bene, se non si fosse lavorato bene non si raggiungeva questi numeri ovviamente. Quindi fossi di Trieste mi chiederei perché devo cambiare, cioè visto quello che in qualche modo è stato fatto in questi anni, credo che la continuità, insomma ricordiamo che tra l'altro Comune e Regione hanno risolto anche la questione della ferriera, diciamo che si è lavorato veramente bene a Trieste in questi anni. Allora ne avremo sicuramente modo di tornare sul tema, anche magari dopo il ballottaggio, vedere come si è risolto. Intanto ringraziamo Mauro Bordin per essere stato con noi oggi, grazie ancora. Grazie a voi. È in linea che può tornare a Pordenone. Economia, il monito della CGA di Mestre, in un anno e mezzo perse 302.000 partite IVA. Serve un tavolo permanente a livello nazionale e locale. Il servizio di Alessio Conforti. In tutta Italia, dall'arrivo della pandemia, era il 21 febbraio del 2020, le partite IVA sono quelle che maggiormente hanno risentito degli effetti del Covid-19, con una perdita di 302.000 attività. Lo fa sapere la CGA di Mestre nell'indagine odierna, che segnala comunque anche un calo dei dipendenti pari a 89.000 lavoratori nel bel paese. Ai problemi che da sempre assillano le microimprese, burocrazia, mancanza di credito e tasse, le chiusure imposte per decreto, le limitazioni alla mobilità, il crollo dei consumi delle famiglie e il boom dell'e-commerce registrati nell'ultimo anno e mezzo, hanno peggiorato la situazione di tanti autonomi che sono stati costretti a chiudere. Solo nel 2020 in Italia i consumi delle famiglie sono scesi di 130 miliardi di euro. L'ente Mestrino chiede al presidente del Consiglio, Mario Draghi, e ai governatori di aprire un tavolo di crisi permanente a livello nazionale e locale per dare una risposta agli imprenditori. Negli ultimi 17 anni il picco massimo delle aperture è stato nel marzo del 2004, quando si registrarono in Italia 6.303.000 indipendenti. Poi c'è stata una continua emoragia che ha fatto scendere nel dicembre 2020 questa categoria lavorativa, quella degli autonomi, sotto ai 5 milioni. E rimaniamo in tema con l'ospite che si trova nei nostri studi del Veneto in compagnia di Alessio Conforti. A voi la linea. Grazie con Sara Moretto, onorevole di Italia Viva, grazie per essere in nostra compagnia. Partiamo da un dato. 302.000 aziende chiuse in un anno e mezzo a livello nazionale. La stima della CGA di Mestre, che insomma invoca un intervento del governo, ma anche dei governatori per un tavolo permanente nazionale e locale. Qui c'è un'emoragia di aziende che per il Covid ha chiuso, onorevole. Beh certo, questo dato tristemente ci conferma anche che, come avevo detto anche con realismo durante la pandemia, non sarebbero stati i ristori a poter risolvere queste situazioni di crisi. Era necessario riavviare il prima possibile, con le regole della sicurezza sanitaria, riavviare l'economia, riaprire e ricominciare a lavorare. Purtroppo qualcuno non è riuscito ad arrivare a questa fase di riapertura che invece adesso il governo Draghi sta portando avanti con estrema convinzione, con estrema determinazione e che consentirà davvero a chi ha resistito di poter ripartire. Anzi, insomma, so di qualche azienda che è davvero fiduciosa sul futuro in questo momento con le misure che il governo sta assumendo. Sì, si parla però anche di questi indicatori tanto positivi e che tanti, insomma, fanno ben sperare, però poi va bene gli indicatori economici, ma ci si confronta anche con i numeri ufficiali come per esempio questi che fotografano una situazione ancora difficile. Quindi va bene la speranza, però bisogna far fronte a una situazione che veramente, insomma, anche nel nostro contesto deve far riflettere. Questo dimostra che probabilmente, immagino, alcune di queste aziende erano aziende che magari erano già in difficoltà di prima e sulle quali la pandemia è caduta proprio come un macigno. Questo ci deve far capire che le politiche economiche a sostegno delle imprese non devono essere delle politiche spot, degli incentivi a pioggia come spesso è capitato nel passato, ma devono essere misure che aiutano le imprese a consolidarsi, sia finanziariamente, sia organizzativamente, e poter durare nel tempo. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che come tutti sappiamo, ha delle grandi dimensioni e spesso fatichiamo anche a trasferire su ciò che sarà poi nella realtà, dovrà contenere investimenti di questo genere. Noi dobbiamo consentire alle imprese, anche le più piccole, che sono la stragrande maggioranza del nostro tessuto produttivo, di rinsaldarsi e di prendere il treno della ripartenza con le spalle più forti. Un altro tema importante è quello relativo alle riaperture. Notizie di queste ore, una boccata d'ossigeno per molti, le discoteche però, insomma. Forse la capienza pare essere ancora troppo bassa, non so lei cosa ne pensa. Mi riferivo prima al governo Draghi che sta procedendo nelle riaperture. Queste, questi dei luoghi della cultura, dell'intrattenimento, dello sport, sono riaperture sulle quali, per esempio, come Italia Viva ci siamo veramente spesi, perché crediamo che, oltre a essere dei luoghi dove c'è anche dell'economia, e che quindi aiutano la ripresa del paese, siano dei luoghi nei quali le persone hanno estremo bisogno dopo un anno e mezzo, così di più, un anno e mezzo più di difficoltà. Ovviamente queste riaperture devono essere comunque guidate con responsabilità. Nei luoghi, per esempio, teatri, cinema ci sono i posti assegnati, comunque si riescono a mantenere, insomma, alcune regole ben chiare. Ho avuto modo di confrontarmi con gli imprenditori delle discoteche, so che per loro è stato un periodo davvero difficilissimo. Prendiamo queste prime riaperture anche come un test per vedere come va e capire se si potrà procedere su questa strada, comprendo le loro difficoltà, ma magari quelli sono dei luoghi nei quali è più difficile poi quando il divertimento, il ballo, incomincia a riuscire a rispettare le regole. La convincia e la pace, tra virgolette, politica, chiaramente tra Salvini e Draghi? Io credo che Salvini, come è legittimo, cerchi di ricavarsi uno spazio all'interno di una maggioranza che è davvero molto larga. Credo che abbia anche commesso qualche errore politico, come quello di opporsi al Green Pass, salvo poi ovviamente festeggiare per le riaperture che avvengono proprio grazie al Green Pass. Quindi vedo un Salvini un po' in difficoltà e credo che in questo momento con Draghi si debbano opporre delle condizioni, discutere, ma che non si debba mettere mai in dubbio la stabilità di questo governo in questo momento dove anche Angela Merkel è venuta in Italia a dirci che l'Italia ha una nuova autorevolezza nei tavoli europei. Ci voleva un uomo che non era all'interno della politica per farla riavere, ma questo è un altro... Diciamo, dire che Draghi non è proprio politico... Però insomma è più tecnico che politico, credo che sia più tecnico. Ultima battuta, prossima settimana Family Act in Aula. Sì, assolutamente, è una misura che al di là della maternità politica della Ministra Bonetti, è una misura di cui parlavo anche questa mattina ad un convegno sulle demenze in Veneto, cambia un po' l'approccio delle politiche di welfare in Italia. Pensa che la base della nostra comunità siano le famiglie e che è da lì che si debba partire per qualsiasi misura di sostegno e di rilancio del Paese. Ecco quindi semplificazioni fiscali e aiuto concreto alle famiglie con figli che hanno in questi mesi, ma in generale, spesso un grande carico di responsabilità. Ci torneremo su questo tema. Grazie, onorevole Moretto. Grazie a voi. Linea Pordenone. Questa mattina è stata inaugurata a Villotta di Chions la nuova sede di Marmo, una start-up innovativa che realizza termoarredi e scalda salviette con processi produttivi improntati al riciclo e alla sostenibilità. Nell'occasione è stato presentato anche il nuovo termoarredo di altissimo design denominato Venezia. Si tratta di un pannello radiante con il simbolo di una gondola veneziana, il ferro da prua, realizzato grazie all'utilizzo di un pezzo storico originale. Presente all'inaugurazione è anche l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini. Ogni inaugurazione di un nuovo stabilimento o di una nuova realtà produttiva, ha detto l'assessore, è un segnale positivo per la nostra regione. In questo caso lo è ancora di più perché siamo di fronte a una start-up che ha saputo resistere alla crisi, fare sistema e puntare sull'eccellenza del Made in Italy. Marmo è un marchio registrato che identifica una linea di termoarredo di design realizzato con la pasta di marmo. Il brevetto si fonda sull'utilizzo delle polveri che derivano dalla fresatura del marmo, recuperate e rinobilitate attraverso un processo sostenibile che conduce alla produzione di una miscela di polvere di marmo, acqua e collante. Da uno stampo in silicone viene ricavata la forma del radiatore che viene poi decorato con elementi di design. All'interno l'impianto riscaldante può essere elettrico o ad acqua. Anche dal punto di vista ambientale la produzione presenta caratteristiche di completa sostenibilità. Lo smaltimento del prodotto a fine vita risulta a ciclo chiuso, in coerenza con i principi dell'economia circolare, per cui l'involucro di pasta di marmo può essere nuovamente polverizzato e reimmesso in produzione. Siamo adesso in compagnia di Danilo Signore, assessore comunale ad Aviano. Grazie per essere qui con noi questa sera. Grazie a lei. Lei è qui per presentare l'evento che cade questa domenica. Aviano corre in rosa per la sensibilizzazione al tumore, sulla prevenzione del tumore al seno. Cosa avete preparato? Di che cosa si tratta nel dettaglio? Diciamo che siamo alla quinta edizione. Questa manifestazione è nata nel 2017 grazie all'intuizione della consigliere Cinzia Zilio che assieme, io sono assessore alle politiche sociali e sanitarie del Comune e allo sport, abbiamo messo su questa manifestazione. La Cinzia Zilio appunto che è presidente anche della Commissione Pari Opportunità Comunale, è la vera macchina organizzatrice di questa manifestazione e in sintesi quinta edizione, perché dico quinta edizione? Perché appunto è nata nel 2017, è nata in crescendo, cioè abbiamo quasi iniziato in sordina con un migliaio di iscrizioni inizialmente, siamo arrivati ad oggi con quasi 3.000 iscrizioni e domani c'è ancora tempo anche per superare questo muro delle 3.000. In effetti la facciamo ormai da 5 anni nella seconda domenica di ottobre, perché come tutti sanno ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, quindi è stato scelto appunto questo periodo e la seconda domenica è diventata ormai una tradizione. Collabora con noi ovviamente la Proloco di Aviano che ci supporta in quello che è l'organizzazione e tutto questo è in collaborazione ovviamente con il centro di riferimento oncologico. Infatti nelle ultime settimane abbiamo anche organizzato alcune incontri con la direzione e i medici dedicati alla popolazione appunto per la sensibilizzazione verso questa purtroppo malattia gravissima ecco. Quale sarà il percorso? Ecco ci saranno due percorsi, uno di cinque chilometri diciamo per chi vuole, intanto diciamo che non è una corsa ma è una passeggiata ecco mettiamola così, perché quando si dice corsa tu ti immaginano che dobbiamo esattamente. Poi c'è ovviamente chi fa anche due giri perché gli piace insomma ma è una passeggiata per tutti, per le famiglie, ovviamente c'è una maglia che noi ogni anno cambiamo come come disegni, come come simboli, una maglia rosa, la massa principale delle persone sono donne perché è dedicato alle donne ma ci sono anche alcuni maschietti ecco. I due percorsi come dicevo uno da cinque e uno da dieci chilometri che saranno indicati alla partenza con due partenze differenti per cui invito tutti a seguire le indicazioni che ci saranno. Tutto questo sempre rispettando la normativa covid quindi siamo all'aperto comunque chiediamo a tutti di indossare le mascherine quindi di stare il più possibile distanziati, di avere in modo insomma una sicurezza abbastanza completa. Il percorso poi appunto partiremo da piazza Matteotti e passeremo all'interno del parcheggio del centro di riferimento oncologico e si rientrerà poi insomma. Il percorso è tutto in sicurezza, ci sono i volontari dei carabinieri in congedo, degli autieri, degli alpini che ci supportano in questo oltre alla nostra polizia locale ovviamente. Quindi un grazie anche a loro per l'enorme diciamo supporto e collaborazione che danno all'amministrazione comunale. Ecco quella e penso che si vede adesso l'immagine della maglia di quest'anno e quindi niente un grazie a tutti quelli che si sono iscritti perché come insomma abbiamo detto più volte questo è un evento che sarà poi tutto dedicato ed evoluto quello che insomma incasseremo tolte le spese ovviamente in beneficenza o meglio più che beneficenza per la ricerca e quindi indirizzate al centro di riferimento oncologico. Parteciperà anche qualcuno proprio del centro, qualche sanitario che lavora al CRO? Assolutamente sì, al CRO questa diciamo iniziativa ormai è diventata una cosa che sentono tantissimo. La direzione generale che era con noi parteciperanno quasi tutti diciamo i medici responsabili, la direzione scientifica per cui avremo veramente tutti i principali attori del centro di riferimento oncologico che assieme all'amministrazione comunale e assieme a tutti quelli che ci hanno supportato faremo questa marcia appunto per la prevenzione e quindi per le donne. Grazie allora Danilo Signore per essere stato in nostra compagnia, ci vedremo la prossima settimana. Grazie ancora. Grazie a lei e buonasera a tutti. Attacco alla pagina Facebook di Asugi, ieri sera la pagina è stata presa d'assalto da numerosi profili falsi i quali diffondevano tramite i commenti notizie fasulle sulla campagna vaccinale. I dettagli nel servizio di Edoardo Anese. La pagina Facebook di Asugi è stata assalita ieri sera da un numeroso gruppo di profili falsi che ha tentato di creare scompiglio e diffondere fake news commentando in blocco due post riservati alla campagna vaccinale. Tutti i profili trattasi di un centinaio sono stati bloccati e inseriti in una lista da fornire alle autorità e alla polizia postale per le indagini e gli accertamenti del caso. Gli oltre 500 commenti deliranti sono stati segnalati come fake news alla piattaforma di Facebook. Durante la notte e ancora questa mattina altri hanno provato a forzare la disattivazione temporanea ai commenti senza successo. Senza questo blocco probabilmente l'attacco sarebbe andato avanti per ore. Si è deciso tuttavia di non oscurare la pagina per raccogliere più dati possibile. La pagina Facebook di Asugi non è stata la prima a essere presa di mira in Italia. I profili fake si rifanno a un gruppo già noto alla stampa e alle autorità che organizza i suoi attacchi su una app di messaggistica istantanea e da lì colpisce in massa i bersagli. Asugi si scusa del temporaneo disservizio che impedisce agli utenti di commentare i post della propria pagina Facebook. La disattivazione, riferisce l'azienda, verrà annullata non appena verrà dato parere positivo in merito. Si ricorda che i vaccini anti-covid-19 hanno superato le tre fasi della sperimentazione clinica previste, hanno soddisfatto standard elevati e hanno ricevuto una raccomandazione scientifica positiva dall'Agenzia Europea per i medicinali, EMA, prima che la Commissione Europea ne autorizzasse l'uso pubblico. La direzione del centro di riferimento oncologico ha provveduto ad applicare in modo puntuale e tempestivo le disposizioni di legge in materia di sospensioni dal servizio del personale sanitario e assimilato non vaccinato contro il covid-19, come documentato anche dalla stampa locale nei giorni precedenti. Sono stati sospesi dal servizio ai sanitari 6 fino ad ora, in cui all'istituto è prevenuta l'evidenza delle modalità previste dalla legge. Il CRO si sta organizzando per dare applicazione alle disposizioni inerenti all'obbligo di certificazione verde o green pass per l'accesso al posto di lavoro per tutti i dipendenti a decorre dal 15 ottobre, misura di cui il personale è già stato chiaramente informato. Per quanto riguarda la terza dose del vaccino per il personale sanitario, l'istituto è pronto a dare attuazione alle disposizioni nazionali e regionali. E qui con noi adesso Federico Buset, una voce, grazie per essere qui con noi questa sera. Buonasera. E continuiamo a parlare dell'organo a canne del patrimonio tradizionale di musica sacra nella liturgia cattolica. Abbiamo anticipato, insomma, introdotto il discorso ancora la scorsa settimana. La volta, appunto, la scorsa settimana lei ha accennato alla responsabilità dei parroci per la salvaguardia di questo patrimonio. Sono soltanto loro i responsabili e qual è, diciamo, l'autorità dei Vescovi e del Papa in questo senso? Allora, sicuramente i sacerdoti sono i più responsabili perché sono i più vicini alla vita della parrocchia e della comunità. Ma l'autorità del Vescovo dovrebbe vigilare o incaricare qualcuno di sorvegliare. Per esempio, abbiamo parlato qualche anno fa, proprio in questa sede, della Mesa Beat, con l'ausilio degli strumenti profani nelle chiese. E ancora oggi si suonano le batterie, i bonghi, le chitarre con i mixer all'interno della chiesa. Ero venuto anche con i documenti, proprio per far vedere che la chiesa cattolica non permette l'utilizzo di questi strumenti all'interno delle chiese durante le funzioni religiose. Quindi batterie, chitarre, tutte quelle cose lì, all'interno delle chiese durante le funzioni sono vietate. Se volete attirare i giovani con questi sistemi, utilizzate gli oratori, che sono fatti apposta per riunire i giovani. Ma la chiesa dà i sacramenti, quindi i sacerdote, perché sceglie la via sacerdotale? Fare il prete non è un mestiere, lo sapete benissimo. E' una chiamata sponsale alla vita di Dio. E' Dio che sceglie i preti. Non sono i preti che scegliono di andare a fare i preti. Qualcuno ci tenta e poi succedono i disastri, degli scandali, che purtroppo sono un cancro all'interno della chiesa. E la figura del Santo Padre deve preoccuparsi attraverso la preghiera, che è la cosa principale, di far reggere la chiesa, che deve dare i sacramenti, ripeto, e deve formare le coscienze. Uno ha bisogno del prete perché cosa? Per la Sagra del Paese non di certo, per le conferenze non di certo, per le cose personali dell'anima, perché vuole credere, vuole avvicinarsi alla fede e vuole capire che attraverso la sua vita può fare del bene a se stesso e anche agli altri. Quindi poi si va in chiesa, è un traguardo entrare nella chiesa e con la solennità che l'organo che è lo strumento principe e attraverso le funzioni che è il sacerdote è autorizzato perché è un consacrato, si va in chiesa a chiedere intercessione al Signore per dare i sacramenti che servono nella nostra vita quotidiana per vivere meglio, per essere anche noi il sale per la terra. Voglio fare un esempio tangibile, se io a qualche sacerdote adesso chiedo a Mari Giovane chi era Don Giuseppe Sarto, qualcuno sicuramente non sa darmi una risposta perché ormai la formazione del clero lascia desiderare. Se pensiamo alle materie della filosofia, del greco, del latino, della musica, che si studiavano nei seminari queste cose, adesso i sacerdoti a stento non sanno neanche l'italiano, questa è la situazione di alcuni, quindi senza entrare nella polemica. Giuseppe Sarto non dimenticò mai la sua chiamata al sacerdozio, fu capelano a Tombolo, poi parroco arciprete a Salzano, cancelliere vescovile da diocesi di Treviso e poi fu nominato vescovo di Mantova, poi salì al patriarcato di Venezia e poi salì al soglio pontificio con il nome di Sampio X, quindi pensate che Sampio X attuò subito la riforma della musica sacra dedicata a Santa Cecilia attraverso dei maestri di cappella, ricordiamo Don Lorenzo Perosi, ma tante altre cose, pensate che era talmente un appassionato dell'organo che nel suo paese nati, Oriese, era il 1911 quando arrivò un organo costruito da Dita Malvestio di Padova che veniva dalla scuola di Gregorio Malvestio Veneziana della Serenissima che avevamo parlato un'altra volta, un organo di oltre 1500 canne che è dietro l'abside del presbiterio, poi nel 1915 regalò ai Trevisani, nel loro duomo, loro chiamano duomo però invece la cattedrale di San Pietro, regalò un magnifico organo di 4000 canne circa, pensiamo quindi che fu inaugurato e pensiamo dunque la passione di questo uomo di San Pio X per la musica sacra, è importante quindi dove c'è un organo a canne che suona, vuol dire che c'è un sacerdote, che c'è un paroco che ha la premura di avvicinare i fedeli con gli strumenti che deve lui adottare, non deve fare altro il paroco, non vediamo che mondo stiamo vivendo, ormai le chiese sono svuotate, c'è tanta cattiveria, c'è tanta malvagità e noi cosa facciamo? Stiamo qua a attendere che cosa? La fine del mondo, su chi confidiamo? Il Papa attuale invece si preoccupa di tutt'altro, dei vaccini, che si preoccupi di dire ai malvagi che hanno creato il virus di convertirsi, di fare del bene per la società, che si preoccupi di questo, che si preoccupi di dire ai vescovi fate il vostro dovere morale e materiale nella Chiesa. Comunque oggi scartabellavo un po' tra i miei libri e ho trovato questa preghiera, del vescovo Mistrorigo di Treviso, vorrei leggerla qua, pensando anche a tutte le mamme, soprattutto quelle che hanno in braccio i bambini più piccoli, che ancora allatano, pensiamo al nostro futuro, pensiamo di iniziare dalle cose semplici, dalla preghiera. Allora la dedico a tutti quanti. O Vergine Regina della Pace, Madre di Dio, Madre nostra Maria, fiduciosi nella tua sollecita e materna protezione, a te ricorriamo. Tu che sei stata costituita, Madre della misericordia, fa che anche oggi sperimentiamo il tuo onnipotente aiuto, presso il trono di Dio. Ottieni la salute agli infermi, il conforto agli afflitti, il perdono ai peccatori, la pace alle nazioni. L'unione fraterna nella famiglia e nella società. Aiutaci ad essere pienamente tuoi, degni figli del tuo amore, apostoli di un mondo migliore, affinché Cristo, Re, regni nei cuori e nel mondo. O Maria, prega per noi e per il mondo intero, adesso e sempre. Grazie allora Federico Buset per essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo domani, come tutte le domeniche, festa di precetto alle ore 18, la messa nella chiesa della Santissima Trinità, proprio a Pordenone. Grazie per essere stato con noi. Grazie a lei. Estate 2021 a Jesolo, albergatori soddisfatti nei tre mesi centrali della stagione, per pernottamenti maggiori rispetto a 2019. Il servizio. Luglio, agosto e settembre a Jesolo sono andati meglio rispetto allo stesso periodo del 2019. A sottolinearlo sono gli albergatori della nota località dell'Alto Adriatico, che al termine dell'estate si ritrovano a fare i conti con pernottamenti e settimane di vacanze. Il trend che ne emerge è tolti i mesi di maggio e giugno, ancora segnati dalle conseguenze delle restrizioni, anticontagio è particolarmente soddisfacente, come spiega Alberto Maschio, presidente della categoria. Vanno interpretati come un segno positivo, chiaramente che deve dare fiducia e anche consapevolezza al settore intero. Non sono dati che ci aspettavamo quando siamo partiti in questa stagione 2021, sono dati che ci hanno piacevolmente stupito, non devono però rasserenarci troppo, devono servirci come stimolo a capire che la località ha un suo appire, che la località tira, che il comparto è stato in grado di rispondere efficacemente ad una situazione molto difficile che è quella vissuta negli ultimi due anni, ma da qui si deve ripartire e deve servire semplicemente a dare uno slancio all'intero settore, all'intera località per guardare non al 2022 ma almeno al 2030 per lo sviluppo delle nostre coste. L'occupazione media nel periodo 22 maggio 17 settembre è stata del 70%. A regalare il numero migliore è il mese di agosto con un 86% di presenze rispetto al 77% di due anni fa. Infine un occhio alle categorie alberghiere. Il 76% dei turisti ha soggiornato nei 4 stelle superior, il 75% nei 4 stelle e il 67% nei 3 stelle. Conto alla rovescia per le giornate FAI d'autunno in programma per il prossimo fine settimana, con aperture esclusive e visite guidate a Cordovado e Sesto a Reghena. Tutti i dettagli dell'iniziativa e le novità sulla delegazione dei giovani volontari del gruppo di Pordenone nel prossimo servizio di Chiara Muzzin. Si rinnova la delegazione FAI di Pordenone. Quali sono le principali novità e cosa ha spinto questo rinnovamento? Dopo 5 anni che la professoressa Marina Filetti ha svolto davvero con impegno e con dedizione il ruolo di capodelegazione FAI di Pordenone, la delegazione locale si rinnova e lo facciamo con una nuova squadra molto giovane, molto competente in vari ambiti. La nuova linea che il FAI nazionale ci chiede, quella di unire oltre all'interesse per i beni culturali, unire oltre a questo un'attenzione verso i temi ambientali, del cambiamento climatico e delle emergenze che sono ormai evidenti a tutti, proveremo a portarla anche sul locale. Non solo ci interesseremo ormai ai consueti vile, palazzi e affreschi, ma vorremmo andare a toccare con mano le nuove tematiche ambientali, provando a dare il nostro contributo a livello locale, provando a sensibilizzare i nostri oltre mille iscritti a queste tematiche che ormai ci devono stare a cuore in maniera evidente. Cosa avete in programma per il prossimo fine settimana, quindi 16 e 17 ottobre? Per le nuove giornate FAI d'autunno apriremo 5 beni fra Cordova e Sesto a Reghena, in particolare Palazzo Bozza Marrubini riservato agli iscritti FAI e Villa Mainardi, della quale potremo visitare gli ampi esterni, l'ex convento di Santa Maria di Campagna con il suo circolo ippico, poi i grandi molini italiani nella sua sede di Sesto a Reghena e l'azienda Midi che si occupa di IRD di design a Cordova. Qual è il regolamento per partecipare a questa iniziativa? Allora, la prenotazione è fortemente consigliata da attuarsi attraverso il portale FAI prenotazioni, sarà necessario per partecipare alle visite avere il Green Pass, gli orari sono indicativamente dalle 10 di mattina alle 17.30 di sera. Un ringraziamento doveroso alla delegazione del FAI di Pordenone, che tra l'altro abbiamo scoperto oggi essersi rinnovata, per aver scelto Cordova e Sesto a Reghena per queste giornate. Siamo onorati e siamo veramente contenti che vengano scelti dei beni che solitamente non vengono aperti al pubblico. Una novità è l'introduzione anche di visite a luoghi privati oltre che a luoghi pubblici. Esatto, privati e anche attività produttive, quindi abbiamo la visibilità di quelle che sono le risorse del territorio di Cordova al di fuori dei soliti schemi. A nome dell'amministrazione comunale di Sesto a Reghena apprezzo sinceramente l'iniziativa del FAI, collaboriamo con piacere perché è un gruppo di giovani che merita tutta la collaborazione, ringrazio le attività produttive per aver partecipato a questo evento e apprezzo in modo particolare il fatto che sono proprio dei giovani che danno un ottimo esempio perché si occupano delle nostre bellezze con passione ed edizione e anche l'idea la trovo molto originale quella di valorizzare le attività produttive del territorio, quindi grazie veramente e vi aspettiamo numerosi. Per la prima parte del telegiornale è tutto, vi lascio adesso con l'ultimo ospite in compagnia di Alessio Conforti nei nostri studi del Veneto e vi ricordo che questa sera ha appunto 9 ottobre, il 58esimo anniversario della tragedia del Vagliont, vi proponiamo due speciali, il primo La memoria continua a camminare, un documentario curato dal nostro direttore Pier Giorgio Grizzo e a seguire il racconto del Vagliont con gli occhi curiosi di un bambino, un racconto di Giorgio e Barro, quindi vi invito caldamente a rimanere sintonizzati per seguire questi due speciali che appunto ricordano l'avvenimento del 9 ottobre. A seguire dopo l'ultimo ospite il meteo e dopo una piccola pausa pubblicitaria tutte le altre notizie che arriveranno dalla redazione di Udine e da quella del Veneto. Grazie per averci seguiti, vi auguro un buon fine settimana. Grazie con noi Maria Teresa Rett, dunque facciamo un bilancio di questo primo anno di nuova amministrazione Favero, chiaramente lei è un esponente di minoranza quindi posso capire qual è la posizione, se dovessimo fare un bilancio flash qual è Rett? Ma la posizione non è negativa a prescindere, anzi quando ci sono delle cose ben fatte io e noi siamo i primi a riconoscerlo, in realtà devo dire però che dopo un anno di amministrazione il bilancio è quello di un'amministrazione immobile, faccio alcuni esempi, un mese fa sono venuta qui, abbiamo parlato di ringhi, il sindaco aveva promesso dei nuovi studi, insomma l'avvio di questo percorso è tutto tace, è passato un altro mese in merito agli studi di fattibilità per il nuovo asilo nido, tutto tace, le commissioni che abbiamo richiesto non sono state convocate e tutto tace, peraltro dovevamo discutere in consiglio il DUP, il documento unico di programmazione che è slittato e mi pare debba essere approvato entro novembre, ora non so se sia slittato perché all'interno della maggioranza non c'è un accordo e insomma ci sono delle discussioni ancora in merito, però questo insomma è un dato da tenere in considerazione, siamo ad ottobre e ancora non abbiamo il DUP, un'altra domanda che potrei farmi è cosa si sta facendo nelle frazioni, ricordo che in campagna elettorale molte cose sono state dette in merito alle frazioni e mi chiedo dopo un anno quali siano gli interventi concreti. Qualche esempio che sarebbe da fare secondo lei? Beh le cose sono tante, mi sembra arrivino segnalazioni, guardi io abito verso diciamo la zona di Summaga e so che arrivano segnalazioni continuamente rispetto ad alcune aree verdi, rispetto alla viabilità, rispetto all'esigenza di alcuni servizi ma penso anche alle frazioni più grandi dall'altra parte, rispetto alla presenza insomma dell'amministrazione nelle frazioni c'è stata una ricognizione e ci è arrivato un documento con alcune esigenze però al momento poi tutto tacco. Senta, Centro Storico? Centro Storico è un altro tema interessante anche perché adesso sono iniziati i lavori per diciamo il nuovo arredo del Centro Storico che dovrebbe coinvolgere anche una nuova illuminazione, la delibera di giunta insomma risale a quest'estate e mi sembra che si stiano levando già delle voci insomma di contrarietà nel senso che l'intenzione dell'amministrazione è quella di illuminare a neon i portici e diciamo le zone sottostante ai portici ma questo sta provocando, insomma si stanno rimuovendo le vecchie lampade in alcuni casi anche storiche e sotto alcuni portici di via Martiri sono comparsi dei tubi di plastica bianchi molto poco estetici, mi domando anche quale sia il parere della sovrintendenza che dovrebbero appunto illuminare a neon il Centro Storico. Avranno fatto le valutazioni prima? Credo. Mi auguro credo anch'io, noi non siamo a conoscenza, vediamo gli effetti, insomma gli effetti direi che su questo lavoreremo un po', come sul tema della filodiffusione che solleva molti dubbi nel senso che il suono, insomma filodiffuso al di là del fatto che è un'idea degli anni 60, però mi chiedo e poi che musica verrà trasmessa? Chi deciderà la musica? Ma nella città della musica non si poteva pensare ad altre soluzioni e di queste cose sicuramente ci occuperemo prossimamente. Anche perché c'è il Consiglio Comunale? Il Consiglio Comunale dovrebbe essere a fine mese, speriamo ci sia la discussione del DUP, speriamo ci sia la discussione del documento sulla sanità che abbiamo proposto e che continua ad essere rimandato, quindi tornando all'inizio, un anno di amministrazione e un anno di immobilismo. Bene, questa è la posizione di Maria Teresa Retto, grazie per essere con noi. Grazie a voi, grazie, buonasera. Lina a Pordenone. Buongiorno, da Arpa, Friuli, Venezia Giulia. Vediamo insieme le previsioni per i prossimi giorni. Sulla regione affluiscono correnti secche settentrionali. Da domenica pomeriggio una depressione si approfondirà sul medio adriatico, richiamando sulla regione correnti orientali umide in quota. Andiamo nel dettaglio. Domenica. Al mattino c'è l'imprevalenza sereno con qualche nube sulla fascia orientale, poi rapido aumento della nuvolosità. Sulla costa soffierà bora, in genere moderata, con qualche raffica più sostenuta. In quota soffierà vento freddo dal nord-est moderato. Dal tardo pomeriggio sera e nella notte successiva, possibile qualche debole pioggia sparsa sulla costa, sulle zone orientali e in montagna, con neve oltre 1200 metri circa. Vediamo le temperature. Minima in pianura tra 3 e 7 gradi, sulla costa tra 10 e 13. Massima in pianura tra 15 e 18, sulla costa tra 14 e 16. Temperatura media a 2000 metri meno 1, a 1000 metri 5. Lunedì 11 ottobre. Nella notte e nel primo mattino possibile qualche debole pioggia sparsa, più probabile sulla costa e sulle zone orientali, con neve sulle giulie oltre 1200 metri circa. In giornata da velocità variabile, con miglioramento dal pomeriggio. Al mattino sulla costa soffierà bora moderata. In quota vento freddo dal nord-est moderato, in calo nel corso della giornata. Temperature. Minime in pianura tra 8 e 10 gradi, sulla costa tra 10 e 13. Massima in pianura tra 15 e 18, sulla costa tra 14 e 17. Temperatura media a 2000 metri 2, a 1000 metri 8. Grazie, arrivederci. Green Pass. Due le principali in programma il prossimo lunedì 11 ottobre. Sentiamo. non si fermano a Trieste le manifestazioni di protesta contro l'introduzione della certificazione verde. Si tratta di tre proteste in tre giorni, due in particolare gli appuntamenti in programma il prossimo lunedì 11 ottobre, per le quali saranno previste delle difficoltà legate agli spostamenti in città. Il primo corteo di protesta partirà lunedì mattina alle ore 10 da Piazza Goldoni, il secondo alle 14 e 30 dall'ingresso del porto nuovo. Sarà lunedì movimentato quando i diversi movimenti scenderanno in strada per dire no all'obbligo della certificazione verde per lavorare. La prima manifestazione è organizzata dal sindacato USB con i Cobas e Usi, la seconda dai lavoratori portuali che minacciano di bloccare lo scalo dal prossimo 15 ottobre. A rendere il fine settimana di Trieste è ancora più complesso il presidio di protesta dei movimenti no green pass che si è svolto quest'oggi in piazza dell'Unità d'Italia, a cominciare dalle ore 13 e 30 per rovinare la festa della Barcolana. In zona ci sarebbe dovuto essere anche il punto vaccinale dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, tuttavia poi cancellato a causa delle forti raffiche di Bora. A seguito di un litigio animato giovedì sera in via Fabio Severo a Trieste sono stati denunciati da una volante. Si tratta di una donna del 1971 denunciata per minacce aggravate e di un uomo del 1975, quest'ultimo invece denunciato per il rifiuto di fornire le proprie generalità. Deferito inoltre in stato di libertà alla locale procura della Repubblica per il porto abusivo di un coltello a farfalla con una lama di 10 centimetri un cittadino albanese del 1983. Il fatto è accaduto nella giornata di ieri, più precisamente nelle ore notturne in largo barriera. Partirà nel mese di ottobre il corso Ires Friuli Venezia Giulia di 240 ore per specializzarsi nell'utilizzo di metodi e delle tecniche per individuare le potenzialità turistiche del territorio, focalizzando la propria attenzione sulle caratteristiche delle diverse destinazioni, sulle esigenze e aspettative degli stakeholder, oltre che sulla valorizzazione dell'identità locale che utilizzando i principali strumenti di comunicazione. Il percorso è risultato di un'ampia consultazione avviata con diversi territori delle Friuli Venezia Giulia che hanno evidenziato un forte interesse verso le attività di promozione in chiave sostenibile del turismo culturale entro i propri ambiti, con l'obiettivo ultimo di preparare persone in grado di far conoscere ad un pubblico sempre più consistente sia i siti archeologici che i monumenti storici, i musei, i festival, le mostre, oltre che le manifestazioni legate all'enogastronomia e all'artigianato, evidenzia così Morena Mauro, progettista dell'IRES. Friuli Venezia Giulia. Nelle comune di Prato Carnico è stato realizzato il nuovo asfalto sulla strada regionale 465. Non è stato un intervento di asfaltatura come gli altri, specifica Friuli Venezia Giulia strade, perché la regionale 465 a Pieria, frazione del comune di Prato Carnico ha delle caratteristiche geometriche che rendono difficoltosa anche la semplice manutenzione come il ripristino dei piani viabile. Friuli Venezia Giulia strade e la RTI, composta dalle dite Aeb Costruzioni Generali, AB Global Service, LTR Asphalt, hanno eseguito la nuova asfaltatura su un tratto nel centro abitato di Pieria, sfiorando le case e i muri del piccolo centro montano friulano. L'intervento in un paio di ore è stato portato a termine a regola d'arte, come si vede appunto nelle immagini che Friuli Venezia Giulia ha condiviso sui social. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Gorizia, sezione di Ronchi dei Legionari, hanno sequestrato una partita di prodotti di importazione risultati non conformi. Si tratta di 24.200 pezzi di disinfettanti per mani e di 20.000 pezzi invece di sapone liquido per la pulizia degli occhiali destinati a una società in provincia di Bologna. La merce dichiarata di origine provenienza serba riportava sulle confezioni, in un caso, la dicitura prodotto dalla società italiana importatrice e nell'altro quella made in Cina. I funzionari hanno quindi sequestrato i prodotti in quanto presentavano marchi o segni distintivi fallaci. In occasione della gita in Carnia della 50 in più di Udine, l'Associazione dei pensionati del commercio a Timau, nel Museo della Grande Guerra, ha deposto un mazzo di fiori sul monumento alle portatrici carni che si è reso onere ai caduti nel tempio a loro consacrato. Un momento di alto valore simbolico, commenta il presidente della 50 in più Guido De Michielis, che ha commosso il folto gruppo di partecipanti. Sentiamo nel prossimo servizio l'intervista all'assessore regionale Pizzimenti nell'ambito di un nuovo importante intervento che ha riguardato il porticciolo di Duino. Sentiamo. Assessore Pizzimenti, oggi ad illustrare questo intervento importante nel porticciolo di Duino. Il porticciolo di Duino è un gioiello all'interno della nostra costa, per cui era giusto, anzi doveroso intervenire, visto le situazioni in cui si ritrova. È chiaro che non è sufficiente, è giusto dirlo, però è un primo intervento necessario, in certi casi anche fondamentale, sul quale ovviamente dobbiamo poi investire ancora di più per mettere ancora meglio quello che è un punto di arrivo e quindi di entrata a Duino dal mare. Una delibera ad hoc, un importo e un intervento anche ambientale, diciamo, no? Sì, è una ristrutturazione non solo dal punto di vista edilizio, ma proprio anche ambientale, perché si andranno a verificare gli alberi, si andranno a verificare le radici, si andranno a mettere a posto di marciapiedi. È un intervento ad hoc, c'è stata una delibera fatta da parte del punto dell'aggiunta di 80 mila euro e quindi andiamo finalmente, ma anche in poco tempo, perché è la delibera di giugno di quest'anno, quindi in pochissimo tempo riusciamo a iniziare i lavori. A Monfalcone il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e viabilità post-incidente sarà affidato ad un operatore esterno specializzato. Ciò significa che in caso di incidente stradale con necessità di ripristino della sicurezza o ripristino delle condizioni a seguito di sversamento liquidi per attività di bonifica è l'operatore terzo iscritto all'albo nazionale dei gestori ambientali a svolgere queste tipologie di operazioni necessarie a riportare nel minor tempo possibile le condizioni di viabilità e sicurezza e non il personale dipendente del comune. Le operazioni principali dell'attività di ripristino consistono nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati, il recupero dei detriti solidi non biodegradabili dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi o nel recupero di materiale trasportato e poi disperso a seguito di incidenti, attività quindi delicate che richiedono formazione e tempo. Questa mattina intorno alle ore 9 e 45 si è verificato un incidente stradale nella frazione di Carpeneto lungo la strada provinciale 89 in via Antonini. Un ragazzo di 21 anni che si stava dirigendo verso il centro di Pozzuolo è sbandato con la sua auto una Fiat 600 finendo per schiantarsi contro un palo in legno della linea telefonica posto sul bordo destro della carreggiata. A causa dell'impatto la vettura ha finito la sua corsa ribaltandosi sul fianco destro. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso danneggiata seriamente invece la macchina ad intervenire sul luogo del sinistro una pattuglia della polizia locale di Campo Formido e Pozzuolo del Friuli. A causa della forte Bora con raffiche fino a 55 nodi. Nella giornata di ieri si è stati costretti a tenere chiusi i propri stand oltre all'annullamento delle attività a mare. Sentiamo adesso i particolari nel prossimo servizio. Un'altra giornata di Bora quella di ieri con raffiche che hanno superato i 55 nodi ha costretto il villaggio Barcolana a tenere chiusi i propri stand mentre tutte le attività a mare sono state annullate. Unica eccezione non poteva essere altrimenti vista la sua vocazione adrenalinica la Barcolana fu un Siram Veolia con i kitesurfer che hanno volato eccezionalmente nelle acque di grado dove la Bora soffiava con intensità minore. Le più recenti previsioni meteo descrivono una situazione del vento in attenuazione a partire dalla tarda mattinata di oggi. Il vento non ha fermato però le iscrizioni che hanno toccato quota 1600 arrivando alle 18 al totale di 1609 un record considerando le condizioni meteo. Mentre villaggio e regate rimanevano fermi in Porto Vecchio al Trieste Convention Center si è conclusa la prima edizione del Barcolana Sea Summit una giornata quella di venerdì aperta da una mattinata dedicata interamente allo sviluppo dei porti italiani in chiave grini il cui dibattito è stato indirezzato dagli interventi dei rappresentanti del governo. Dopo il video intervento del ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini sul podio del Sea Summit sono salite prima la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vania Gava e poi Laura D'Aprile Capo Dipartimento per la transazione ecologica e gli investimenti verdi. Tra questi interventi anche il contributo video di Gabriele Galateri di Genola Presidente Assicurazioni Generali. Un uomo 38enne è stato fermato ieri notte in largo barriera ed è stato trovato in possesso di un'arma bianca a seguito di un controllo da parte del personale della Polizia di Stato della Questura di Trieste. Il 38enne è stato deferito in Stato di Libertà alla locale Procura della Repubblica per il porto abusivo di un'arma da taglio. La lama aveva una lunghezza di circa 10 centimetri. Tornano in azione i ladri di rame che hanno colpito ieri notte in un'azienda che tratta materiali metallici a Pavia di Udine. I malviventi ben organizzati sono riusciti a introdursi all'interno del cortile dell'azienda dopo aver tagliato una rete di protezione e sono andati a mano sicura in direzione di un deposito di rame dal quale sono riusciti a rubare circa 30 kg di oro rosso asportando materiali di diversa forma che contengono il prezioso materiale da rivendere successivamente nel mercato nero. Poi se ne sono andati senza lasciare tracce e dileguandosi nel cuore della notte ad accorgersi del fuso. Sono stati responsabili all'arrivo in azienda. Il danno è ingente ancora in corso di quantificazione ma secondo le prime stime si aggirerebbe intorno ai 22 mila euro. Una pagina esemplare di integrazione tra medicina e applicazioni di ricerca scientifica in Friuli, Venezia, Giulia. Così il vice governatore con Delegale Salute Riccardo Riccardi ha definito la convenzione tra la regione e l'ASU-FC, azienda sanitaria universitaria del Friuli centrale, per realizzare il progetto di ricerca traslazionale e di sviluppo preclinico di strategie terapeutiche innovative e predittive mirate all'ottimizzazione del trattamento dei tumori cerebrali. Il progetto è finanziato dalla regione con un milione di euro, ha dichiarato Riccardi, segna l'unione di eccellenze del Friuli, Venezia, Giulia, Università di Udine, Crodia, Viano, Sissa, CNR, Ion ed Elettra, Sincrotone, chiamate a convergere le loro competenze per elaborare nuovi approcci terapeutico-farmacologici. Continuano le attività da parte della questura di Udine nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata di ieri un diciottenne afgano è stato arrestato in quanto trovato in possesso di un grammo di hashish pronto per essere venduto. Sentiamo. Gli agenti delle volanti della questura di Udine nel pomeriggio di ieri 8 ottobre hanno denunciato in stato di libertà uno straniero per detenzione illecita di stupefacente. Durante un servizio di controllo del territorio finalizzato a reprimere il fenomeno dello spaccio di stupefacente nella zona del parco Moretti di Udine verso le ore 12 un agente ha notato un giovane straniero alzarsi da una panchina e nascondere qualcosa in una fessura di un albero per poi accortosi della presenza del poliziotto darsi a precipitosa fuga. Recuperato il materiale occultato l'agente ha constatato trattarsi di un bilancino di precisione di uno smartphone. Successivamente gli agenti di una volante seguendo le tracce del fuggitivo sono riusciti ad identificarlo e successivamente a fermarlo. Si tratta di un cittadino afgano 18enne domiciliato a Udine trovato in possesso di un grammo circa di hashish sostanza che lo stesso ha riferito a aver comprato precedentemente per poi rivenderla. Con lui anche una banconota da 20 euro probabile provento di precedenti cessioni. Al termine degli accertamenti il giovane è stato deferito per detenzione illecita finalizzata allo spaccio di hashish, sequestrato così come il denaro, il bilancino e il telefono. Già il 25 settembre scorso le volanti della questura avevano arrestato un altro cittadino afgano trovato nello stesso parco con un vero e proprio sasso di cocaina pura occultato nel basso ventre e dal quale avrebbe ricavato decine di dosi pronte per essere spacciate. Ieri sera venerdì 8 ottobre è stato trovato morto un giovane di 26 anni residente a Palazzolo dello Stella. Il corpo è stato rinvenuto a Precenico nella zona della chiesa della Madonna della Neve vicino al fiume sul luogo di ritrovamento è intervenuto il personale sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Latisana e i carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso. Secondo questi ultimi non ci sono responsabilità di terzi nell'accaduto, non risulta che sia stata disposta quindi l'autopsia del corpo. Classe 2007, la giovane Valentina De Marco ha vinto la gara di matematica cangoro. La giovane ha partecipato in qualità di studentessa della terza media del collegio di mese, riuscendo a classificarsi per le finali nazionali cadet di matematica individuale insieme ad altri 29 partecipanti provenienti dalle classi terze delle scuole secondarie di tutta Italia. Con 7 punti di scarto sul secondo classificato Valentina è risultata la migliore del gioco concorso giunto alla sua 22esima edizione. Grande la soddisfazione della ragazza ma anche degli insegnanti del collegio di mese che l'hanno sostenuta in un percorso brillante. Questa era la nostra ultima notizia, io vi ringrazio per averci seguiti. Adesso dopo il piccolo break pubblicitario, linea che può passare al collega del Veneto. Grazie, buon proseguimento di serata qui su Telepordenone. Un cordiale saluto dalla nostra redazione del Veneto. Continua l'informazione di Telepordenone. Tragedia nel pomeriggio a Duna Verde, frazione di Caorle, con un incidente che ha visto coinvolto un furgone e un'auto. Il bilancio è di un uomo che ha perso la vita. Ferite le tre persone presenti a bordo del furgone. I pompieri arrivati da Caorle e Sandonà con i volontari hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l'automobilista senza vita. Feriti in maniera lieve le altre persone a bordo del furgone che sono state assistite dai sanitari del SUEM 118. I carabinieri hanno eseguito i rilievi di legge deviando il traffico. Le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco sono durate poi per diverse ore. In attesa di conoscere le motivazioni della sentenza del Tribunale del Riesame di Trieste che ha portato alla scarcerazione tra gli altri di Giuseppe Morsanuto, Confcommercio Portogruaro Vivione Caorle esprime la propria soddisfazione in relazione alla notizia dell'accoglimento da parte del Tribunale del Riesame delle richieste degli avvocati difensori. Lo ha comunicato oggi Manrico Pedrina che è il presidente provinciale di Ascom Confcommercio per quanto concerne il mandamento portogruarese. Come avevo già avuto modo di evidenziare all'inizio di questa vicenda Confcommercio estranea. Questo fatto i cui contorni dopo il provvedimento del Riesame sembrano essersi significativamente ridimensionati rispetto a quanto inizialmente divulgato all'opinione pubblica. Ci uniamo al sollievo che tutti hanno provato per un provvedimento che smonta le ipotizzate accuse relative a un presunto metodo mafioso e siamo particolarmente contenti del ritorno a casa di Giuseppe Morsanuto, continua Pedrina, che può ora riabbracciare la sua famiglia. Attendiamo con fiducia la chiusura del procedimento giudiziario. Un uomo di 33 anni del Togo è stato invece arrestato ieri sera a Castelfranco Veneto con l'accusa di rapina. L'uomo, residente a San Martino di Lupari nel Padovano, è stato bloccato dai militari dell'arma dopo la segnalazione di un'incursione avvenuta all'ora di cena a casa di un'anziana di 86 anni. A lanciare l'allarme al 112 è stato il nipote della donna, rientrato dal lavoro e trovato si faccia a faccia con il ladro salito al primo piano dell'immobile svuotando i preziosi. Dalla camera dell'86enne ne è nata una collutazione al termine della quale lo straniero è riuscito a fuggire calandosi dalla finestra. La tempestiva segnalazione e la descrizione del soggetto hanno permesso ai carabinieri di sorprendere il 33enne in Viale. Cesare Battisti aveva una ventina di anelli, due collane, ciondoli e bigiotteria varia per un valore di circa 4 mila euro. Non si esclude che parte dell'area furtiva possa essere riconducibile ad altri corpi messi in atto in zona. Indagano i carabinieri e lo straniero è stato condotto in carcere a Treviso. Il trend del Covid-19 in Veneto è stabile negli ultimi giorni attestandosi tra i 3 e i 400 casi quotidiani. Dunque questo il bilancio 350 nelle ultime ore i positivi scoperti, 3 i decessi rispetto a ieri, 199 le persone in area non critica negli ospedali e 38 in terapia intensiva adatti anche negli ospedali in calo. In tutta Italia invece dall'arrivo della pandemia era il 21 febbraio del 2020, ricordiamolo, le partite IVE sono quelle che maggiormente hanno risentito degli effetti del Covid-19 con una perdita di 302 mila attività. A segnalarlo nell'indagine odierna è la CGA di Mestre che fa sapere come ci sia stato tuttavia anche un calo dei dipendenti pari a 89 mila lavoratori. Ai problemi che da sempre assillano le microimprese, burocrazia, mancanza di credito e tasse, le chiusure imposte per decreto, le limitazioni alla mobilità, il crollo dei consumi delle famiglie e il boom dell'e-commerce registrati negli ultimi anni hanno peggiorato la situazione di tanti autonomi che sono stati costretti a chiudere. Solo nel 2020 in Italia i consumi delle famiglie sono scesi di 130 miliardi di euro. L'entemestino chiede al presidente del Consiglio Mario Draghi e ai governatori di aprire un tavolo di crisi permanente a livello nazionale e locale per dare una risposta agli autonomi. Negli ultimi 17 anni il picco massimo delle aperture è stato nel marzo del 2004 quando si registrarono in Italia 6 milioni e 303 mila indipendenti. Poi c'è stata una continua emoragia che ha fatto scendere nel dicembre 2020 questa categoria lavorativa, ossia quella degli autonomi, sotto ai 5 milioni. E l'estate che si è conclusa pur caratterizzata ancora dall'emergenza Covid-19, a Jesolo fa tirare insomma le fila dell'andamento. Tra gli albergatori c'è fiducia. I mesi di luglio, agosto e settembre sono stati, parlando di occupazione alberghiera, superiori a quelli dell'anno 2019. Sentiamo il presidente degli albergatori di Jesolanni, Alberto Maschi. Vanno interpretati come un segno positivo, chiaramente che deve dare fiducia e anche consapevolezza al settore intero. Non sono dati che ci aspettavamo quando siamo partiti in questa stagione 2021. Sono dati che ci hanno piacevolmente stupito, non devono però rasserenarci troppo, devono servireci come stimolo a capire che la località ha un suo appeal, che la località tira, che il comparto è stato in grado di rispondere efficacemente ad una situazione molto difficile che è quella vissuta negli ultimi due anni, ma da qui si deve ripartire e deve servire semplicemente a dare uno slancio all'intero settore, all'intera località per guardare non al 2022 ma almeno al 2030 per lo sviluppo delle nostre coste. L'abbiamo visto anche con gli strumenti di analisi che abbiamo, questi eventi, questi grandi eventi portano occupazione, portano ricaduto sul territorio, se abbiamo chiuso un settembre così ottimale è stato sì grazie al Metto, ma anche grazie a questi eventi tipo Ironman. Abbiamo visto come l'evento del kickboxing che si terrà la prossima settimana fondamentalmente porta tassi occupazionali molto maggiori rispetto al normale, diciamo così, ai tassi in cui siamo abituati in ottobre, quindi va investito con coscienza, con attenzione, su questi eventi, devono essere eventi che hanno ricaduta, non eventi di un giorno che spesso non portano nulla se non una serie di confusioni annesse ma non portano poi ricaduta economica sul territorio. Questo è il grande tema, questo non è più un problema, è un'emergenza, è una situazione emergenziale che coinvolge non solo il nostro comparto, non solo la nostra località, ma questo non ci basta, non è una giustificazione per mettersi i cuori in pace, deve servirci comunque per iniziare a cambiare approccio, essere molto più proattivi, molto più innovativi, ma soprattutto partire con un approccio culturale diverso alla ricerca e alla selezione del nostro personale. Il personale per noi è fondamentale, noi eroghiamo servizi, i servizi le danno le persone e per cui la nostra interfaccia con l'ospite abbiamo bisogno di trovare personale di qualità, che abbia attitudini corrispondenti alle nostre necessità, le competenze, abbiamo capito che se non le hanno siamo in grado di insegnarle noi, per cui facciamo formazione in azienda, ma abbiamo bisogno di iniziare, ripeto, ad avere un approccio culturale molto diverso nella ricerca, nella fidelizzazione, nel coccolare i nostri collaboratori così come lo riusciamo a fare con gli ospiti. Sì, più che stai diciamo foresteria a tutti gli effetti, è un progetto che abbiamo condiviso anche oggi con l'Assemblea, che vede partecipare a questa idea, a questa iniziativa ovviamente l'associazione, l'amministrazione comunale che ha sposato positivamente l'iniziativa, l'idea e Iasul Turismo come partner su questa iniziativa. Senz'altro è una parte delle risposte che dobbiamo dare appunto a quella che è l'emergenza e il riprendimento delle risorse umane, il nostro capitale umano appunto per le nostre aziende. È chiaro che abbiamo bisogno di attrarre persone, personale da fuori, località, da fuori provincia, ma forse anche da fuori Italia. Abbiamo bisogno, nel momento in cui li portiamo qui, non solo di dargli condizioni di lavoro ideali, condizioni economiche accettabili, in quel caso tirandoli da fuori abbiamo bisogno anche di offrirgli condizioni di alloggio dignitose, mi sento di dire, se non positive, per poter essere attrattivi anche nei loro confronti. E questa potrebbe essere una parte della risposta. Motrice di un camion a fuoco, disagi e tre chilometri di code in A4 è accaduto nel pomeriggio attorno alle 15 nel territorio comunale sanstinese tra le uscite di Porto Gruaro e Sanstino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Porto Gruaro e Motta di Livenza, il cui intervento è stato fondamentale per impedire che il rogo insidiasse il semirimorchio. Sono intervenuti anche gli uomini di Autovie Venete per regolare il traffico e la polstrada. Sempre a Sanstino, il giorno prima, si era verificato uno scontro frontale tra una Toyota Yaris e una Fiat. Ad avere la peggio, la guidatrice della Yaris, una donna di Pravis Domini, che si era posta alla guida di questa macchina intestata al compagno. L'automobilista è stata ricoverata a Porto Gruaro. Sembra in fuori pericolo di vita. I lievi sono stati affidati ai carabinieri del Norm di Porto Gruaro. E ricorre tra pochi minuti l'anniversario, il 58esimo anniversario della tragedia del Vaillant. Oggi la giornata di commemorazione. Quasi 2000 vittime in pochi minuti, interi paesi distrutti, migliaia di sfollati. A 58 anni di distanza, quelle immagini sono ancora lì a testimoniarci una tragedia che nella memoria collettiva non si cancellerà mai. Alle 22.45 del 9 ottobre del 1963, una frana si stacca dal Monte Toc e irrompe nel bacino idroelettrico artificiale del torrente Vaillant. Tra Feriuli Venezia Giulia e Veneto, una massa d'acqua alta a 200 metri scavai Caladiga e si abbatte sui paesi di Longarone, Erto e Casso, provocando morte e distruzione. Oggi la commemorazione ufficiale. Guardando la ridente e operosa Longarone e le altre comunità dell'area, ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, pare impossibile che tutto fu spazzato via da una delle più grandi tragedie della storia del Veneto e delle sue montagne. E alle giovani generazioni, dice il governatore, che ora istituzioni e società civile devono rivolgersi perché dalla storia del Vaillant, fatta anche di errori, sottovalutazioni, scelte e comportamenti assai discutibili, tragano una lezione per il futuro, magari partendo da una visita al cimitero di Fortogna, simbolo primo del dolore per una tragedia determinata dalle mani dell'uomo. La nostra emittente televisiva non ha voluto far mancare il proprio apporto in una giornata centrale per la storia, non solo del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, ma dell'intera Italia, una delle tragedie che hanno scosso la storia del nostro bel paese. Quella che ci aspetta dopo il telegiornale è una prima serata tutta da seguire, con speciali e approfondimenti, non solo dalla nostra redazione di Pordenone, ma anche da questa del Veneto. Allora può partire la clip. Un incontro collaborativo e proficuo. È il bilancio dell'incontro che c'è stato appunto tra l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin con l'Ordine delle professioni infermieristiche. Abbiamo affrontato molti aspetti e sviluppi relativi a queste professioni nell'ambito del nostro servizio sanitario, ha detto Manuela Lanzarini in una nota, ho apprezzato la disponibilità da parte della categoria, soprattutto pensando ai nuovi modelli organizzativi, ma alle sfide che ci accompagneranno con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, soprattutto per continuare a garantire il corretto livello di assistenza sul territorio, oltre che all'interno dei vari presidi e delle strutture protette. Si è spento all'età di 91 anni, invece, Elia Bergamo, originario di Eraclea, residente a Bibione, è stato un grande amministratore a San Michele al Tagliamento, è arrivato in zona all'epoca più neristica della località balneare tra gli anni 50 e 60 per amministrare la zona Pasotto. Da lì si è fatto subito conoscere dai bibionesi e anche a San Michele. Iscritto alla democrazia cristiana è stato eletto assessore all'urbanistica per più mandati con i sindaci Cartini e Cicuto. Il suo capolavoro è stato tuttavia a ruolo alla presidenza dell'APT di Bibione, poi confluita con quella di Caorle e infine sciolta in quella di Venezia. I funerali verranno celebrati nella giornata di martedì a Bibione con inizio alle 16. Cordoglio per la morte di Bergamo è stato espresso dall'amministrazione comunale. Andiamo a Portogruaro dove la notizia del giorno sul fronte politico è la dimissione da capogruppo della Lega in consiglio comunale da parte di Mario Pizzolito che passa a forza. Portogruaro. Mario Pizzolito si dimette da capogruppo della Lega e passa in consiglio comunale tra i banchi di forza Portogruaro. La decisione è stata ufficializzata ieri sera attraverso una lettera inviata dall'ormai ex esponente del Carroccio al presidente del consiglio comunale Gastone Mascarin. Pizzolito rimarrà in maggioranza ma non nel partito che lo aveva eletto un anno fa alle amministrative della città dell'Emene quando fu il secondo più votato della lista Lega con 162 preferenze. A spiegare il perché di questa presa di posizione ci ha pensato lo stesso medico chirurgo. Dopo un anno circa di consiglio comunale spiega in una nota sono stati vani tutti i miei sforzi atti a condividere all'interno del mio ex partito un buon programma per il bene dei nostri concittadini. Pizzolito parla di mancanza di ascolto e di rispetto per la libertà di pensiero. Da capire ora quali saranno gli scenari interni alla maggioranza di governo e se si potrebbe palesare come paventa qualcuno un ipotetico rimpasto di giunta. Dalla Lega oggi non ci sono stati commenti che invece sono arrivati dal partito democratico. A un anno dall'elezione del sindaco Florio Favero dicono i Dem tanti sono stati gli annunci ma sono ancora pochi i fatti molti invece i malumori interni che creano sicuramente instabilità e incertezze che bloccano l'azione amministrativa. Cena è in lotteria di beneficenza invece ieri sera a Concordia Sagittaria per una serata dedicata alla scuola che la concordiese Chiara Pasiana ha aperto da alcuni anni nel Benin. Sentiamo i particolari e la serata nel servizio di Maurizio Conti. Serata particolare questa sera a Concordia dedicata ad una persona particolare siamo con la mamma di Chiara ecco signora chi è Chiara? Chiara è la mia bambina è la mia piccola bambina che però è partita per l'Africa 27 anni fa mi aveva detto per due anni che invece non vuoi più tornare perché l'ha costruito scuole, asili e lei è felice con i bambini quindi ha trovato la sua ragione di vita sì, è felice veramente perché io sono andata otto volte in Africa per trovarla ogni volta vengo a casa che è però la vedo felice ecco stasera tutta la comunità di Concordia o una larga parte della comunità di Concordia si è stretta intorno a Chiara che ha anche telefonato qui alle persone presenti lei è contenta perché Chiara ha annunciato il ritorno in patria a Pasqua dell'anno prossimo sì, spera di tornare se questa pandemia non si ferma torna perché se no si deve stare 14 giorni qua e non può tornare allora spera per aprile di poter tornare ma in due settimane ha detto vengo grazie speriamo grazie ho avuto la fortuna dico io di averla incontrata perché ormai i miei viaggi in Africa sono abbastanza frequenti e l'appuntamento con lei in questo posto del Benin nel nord del Benin non è che sia proprio così comodo da arrivarci ma è diventato un obbligo per tutti e due per me perché mi piace stare nella sua compagnia e sentire le ultime novità e credo per lei per vedere qualcosa di casa anche se non sono di concordia però per sentire qualche parere qualche novità su come stanno dando le cose in Italia ecco non è un caso che lei sia andato nel Benin perché lei è presidente di un'associazione che si occupa di cooperazione internazionale sì io ho la fortuna di presiedere questa associazione da quasi anzi da vent'anni e il Benin è uno degli stati che per noi è fondamentale per come oggi si trova dal punto di vista politico dal punto di vista anche sociale e crediamo che le operazioni che noi stiamo facendo in questo stato possano essere dei testimoni agli importanti per tutto il mondo della cooperazione e per questo motivo insistiamo nei nostri progetti e continuiamo a svilupparne di nuovi ogni anno praticamente e questo mi fa viaggiare spesso per poter verificare controllare promuovere e rilanciare altri progetti a seconda delle necessità che ci chiedono nel paese non per quelle che noi riteniamo e di sera invece a Porto Gruaro l'evento promosso dall'Ulss4 hashtag io mi dono al teatro metropolitano Astra di Sandona di Piave con la partecipazione straordinaria dell'artista Red Canzian che sentiamo? ma stasera racconto una storia una lunga storia che è la mia ma in realtà è la storia di tutti quei ragazzi nati negli anni 50 che hanno vissuto il boom economico che hanno vissuto la musica dei Beatles che hanno vissuto i grandi cambiamenti di moda e di modi di vivere le proteste gli scontri politici degli anni 70 e sono arrivati fin qua insomma in questa realtà che non so se è meglio o peggio di quella degli anni 60 in cui eravamo ragazzi però insomma racconto questa storia attraverso le canzoni non solo mie non solo dei Poo ma anche canzoni che mi hanno fatto crescere e arrivare fin qua attraverso 70 fotografie storiche che manderà mia moglie dalla regia sul palco i miei figli quindi una family band mio figlio ha il pianoforte chiara che canta dei pezzi da sola e fa i cori insomma andiamo in giro come se fosse una vacanza musicale insomma lei instancabile continua a creare a offrire novità sul palco al suo pubblico tanti anni di carriera parlando di dono lei ha donato tanto tanta musica che si ascolta in tutto il mondo che si balla in tutto il mondo quella sua ma ho anche avuto tanto anche il pubblico ha donato tanto e quindi credo che sia uno scambio alla pari quello che si riesce a fare quando per 50 anni e più la gente ti ama e ti sta vicino penso tutto il bene possibile purtroppo quando un organo viene spiantato non serve più alla persona che ce l'aveva per cui non vedo perché non cercare laddove sia possibile di aiutare un'altra vita ad andare avanti ma questo mi fa molto piacere ma il Veneto devo dire che in questa pandemia si è distinto in qualsiasi cosa siamo stati bravi nelle vaccinazioni siamo stati bravi a organizzare tutta la sanità e siamo bravi anche in questa cosa delle donazioni di organi credo che il Veneto rimanga una grande terra questa è una serata particolare perché dopo un anno durante il quale non abbiamo potuto fare iniziative di questo tipo questa sera è un momento per celebrare un anno buono in termini di donazioni e soprattutto ringraziare le persone che a vario titolo lavorano in azienda abbiamo un team molto ampio ma è più facile dire chi non partecipa all'attività di donazione perché di fatto dall'anestesia ovviamente al coordinamento tra pianti locale con la dottoressa Momesso ai chirurghi ai ginecologi gli infermieri di sala operatoria il personale di pronto soccorso anche chi trasporta gli organi e le forze dell'ordine tutti sono impegnati in questa attività sono circa 250 le persone coinvolte quando si fa un espianto e un impianto d'organo di tessuto o d'organo in generale nel 2020 nonostante la pandemia abbiamo fatto bei numeri la regione Veneto in assoluto ha fatto più numeri rispetto al 2019 noi abbiamo avuto circa 200 donazioni di corne 40 donazioni d'organo e varie donazioni di tessuti da vivente a vivente quindi un ottimo risultato nonostante un anno diciamo da dimenticare che testimonia una forte vocazione di questo territorio da parte delle persone che vivono in questo territorio alla donazione a Jesolo invece quello che si è aperto è un vero e proprio weekend di sport caratterizzato dai campionati mondiali di kickboxing con la presenza dei più importanti atleti dei cinque continenti ma anche il momento soprattutto domani per l'attesissima pedalata con il campione che vedrà protagonista in prima linea Alessandro Ballan di scena sul litorale uno sportivo invece che amava dare agli altri uno sportivo che avrebbe potuto essere un concreto punto di riferimento anche per i più giovani visto che lo era per i compagni di allenamento uno sportivo che resterà vivo nel ricordo anche di chi magari non l'ha conosciuto ma con dentro il fuoco sacro dello sport come base fondante della propria vita nasce così la borsa di studio intitolata al triatleta Maurizio Casagrande scomparso all'età di 44 anni nel giorno di ferragosto mentre si allenava tra le strade dell'Alpago l'idea che ha l'obiettivo di non far dimenticare uno sportivo tanto amato è degli amici del bar alla Fenice di San Giacomo di Veglia località di Vittorio Veneto che continuano a ricordarlo con affetto e con questo è tutto grazie per averci seguito vi lascio alle nostre previsioni del tempo come ricordato a seguire una serata da non perdere con degli speciali appositamente dedicati alla tragedia del Vaillant non perdetevi grazie per quanto riguarda l'informazione ci si rivede lunedì arrivederci previsioni per domenica 10 ottobre stato del cielo cielo finora una parte del pomeriggio da sereno a poco nuvoloso qualche addensamento a fine giornata precipitazioni assenti temperature in calo 20 in prevalenza da nord-est ma tendenti a una direzione variabile nelle valli e sull'entroterra pianeggiante per lo più tesi o localmente a tre forti in quota da tesi a moderati sulla costa e da moderati a più spesso deboli altrove mare mosso a tratti anche molto mosso a largo del litorale sud e e Grazie per la visione!